Palazzi di vetro, è l'emblema di quello che a Petiglia è successo dagli anni 70 in poi. Petiglia è stata devastata dal cemento, da questa polata di cemento che ha ridotto la città ad un scempio. Qui negli anni 70, senza piano regolatore e di fabbricazione, su ogni centimetro libero sono nate case e palazzi. Gli concedeva di costruire, quindi costruiva. Che dovevano fare? Un paese abusivo, ma anche un paese che frana la grande paura qui si chiama dissesso ideologico. Che poi costruiscono il solano? Questo qui, ci siamo arrivati qua e abbiamo trovato questa. Il contrario è pericoloso? No, no. Questa casa quanti anni ha? E' stata costruita senza permette. Esatto. Ma costruita lei? No, no. In teoria avevano le bravabattute in questa casa. Sono abusive. Come ci parla? L'abusivismo vero, non devono venire in questi paesotti, devono andare sulle coste. I speculatori veri, i palazzinari veri, hanno fatto interi villaggi interi, città sul mare. E 50 metri avanti. E tutto là non parlano di abusivismo. Mi sa perché?